Da una panchina a uno stadio, da una saletta in diretta per radio Da una cucina sporca a un ristorante specchiato Da chi usi dentro un alfa in manette Fino agli alberghi a quattro stelle sopra un Q7 Se co voi mette Cioè se sale Emanuele sul palco, gli altri non ci sono Cappello giù, mitra, pam 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 Basta, devi morire Sono in cinque a farlo Quattro Vuol dire che hai un potere, un super power, no? Come gli Avengers Credo che a livello di culto, di lifestyle Ce ne siano davvero pochi come lui Quando sale sul palco, qualunque siano le condizioni in cui ci si arriva Quel palco viene spaccato in due, è un killer Per i ragazzi oggi Noize rappresenta un altro modo di farcela Questo è l'importante Finchè c'è Noize vuol dire che anche tu puoi fare il cazzo che ti pare nel rap Se ci credi, no? Noize vuol dire che anche tu puoi fare il cazzo che ti pare nel rap Grazie a tutti Grazie a tutti